Quando tutti credevano che la candidatura di Mauro Dattis fosse la prosecuzione naturale di quello che è stato l'amministrazione comunale fino a pochi mesi fa, arriva la smentita? No, arriva non la smentita, ma io ritengo un atto di responsabilità. Io sono stato in silenzio in questi mesi per rispetto di tutti, io credo che ognuno di noi rappresenti non solo quello che è, ma anche quello che è stato e indubbiamente in questi casi rappresenta anche quello che intende fare, come nelle campagne elettorali. E quindi ho immaginato che questo percorso si stesse sviluppando così. Sono stato in silenzio, ho dato la disponibilità a qualsiasi genere di metodo di selezione delle candidature. Un piccolo particolare, stiamo parlando della candidatura per la guida della città, quindi non la presidenza di un'associazione culturale, piuttosto che anche la guida di un partito. Io ritengo ancora più importante riservare al senso istituzionale maggiore attenzione. Quindi sono stato in silenzio, ho dato la disponibilità anche alle primarie di partito, di coalizione, sbandierate ai quattro venti da tutti, fino anche a Lorenzo Maggi stesso, che dichiarava di essere disponibile a questo strumento di democrazia, salvo poi qualche giorno dopo ritrattare tutto quanto e negare la sua partecipazione alle primarie. Detto ciò, quindi ho verificato che le cose erano ferme, che il centrodestra al quale io aderisco e che ha avuto la responsabilità di governare questa città per tanti anni, facendo anche opere importanti in questa città che porteranno i loro effetti anche per il futuro positivi, che questo centrodestra era fermo. Quindi per iniziare questa campagna elettorale, che il centrodestra non ha mai cominciato, e che Mauro Dattis non ha potuto parlare con i suoi elettori, non perché improvvisamente ha dimenticato i problemi di Brinzi e come proporre di risolverli, e ho pensato a questo gesto di responsabilità e quindi essendo due i contendenti, cioè io e Massimo Giullo, ho pensato di investire io direttamente Massimo Giullo, che aveva già dichiarato di non solo voler vincere le primarie, ma anche di sentirsi pronto a vincere la sfida da sindaco, e a questo punto quindi a loro tocca la scelta. Io ho chiarito questo e ho anche chiarito il mio impegno per portare il centrodestra, come sempre, alla vittoria, o comunque per combattere il centrosinistra. L'ho presa seriamente questa cosa, come ho sempre ritenuto serio l'impegno politico nelle istituzioni, credo che Brinzi debba dare uno scatto di dignità, permettetemi, ritengo che questo sia un piccolo contributo per uno scatto di dignità, non solo per quello che può essere la mia parte politica, ma anche per la città di Brinzi. Non partecipo generalmente a suddivisioni di torte, soprattutto quando queste torte si suddividono, magari si mangiano anche fuori da Brinzi. pensavo di poter essere uno che poteva dare qualcosa alla sua città, come ha dato fino adesso, vedremo in futuro cosa accadrà. C'è stato un episodio particolare, un fatto particolare, che ha maggiormente modificato l'idea di partecipare eventualmente alle primarie? No, l'episodio è proprio tutto il film di questi mesi, queste indecisioni, questi continui vai e vieni, questo girare intorno all'ostacolo. Io sono abituato ad affrontare le cose, a dirle in faccia, l'ho fatto quando avevo responsabilità grosse, quando mi sono trovato a dover fare il sindaco facente funzioni in un periodo difficilissimo come Mimmo Mennitti in rianimazione. questi atteggiamenti non mi sono piaciuti da parte di tutti. Devo dire, Luigi Vitale, il coordinatore provinciale, mi è stato molto accanto. A volte ero io a frenare lui da questo punto di vista, ma non perché io fossi la sua espressione, ma perché lui era quello che voleva risolvere il problema. Ho visto un po' di tentenamenti giusti, legittimi, per carità, e davanti a questo penso che ognuno debba trarre le conclusioni. Io sono convinto che quando parliamo, anzi parlano i politici, perché mi voglio un attimo da questo punto di vista di distinguere, altrimenti non farei quello che ho fatto, si dimenticano della cosa più importante, che poi sono gli elettori, dei cittadini. Io parlo con i cittadini. Allora l'episodio che mi ha determinato questa scelta non è un episodio, ma sono le persone, cioè i cittadini, gli elettori, che io in questi mesi ho continuato ad ascoltare molto, parlando poco io, e mi hanno portato a questa facile deduzione, quasi scontata, ma che credo, spero, avrà effetti sulla situazione. Come proseguirà da oggi in poi l'attività politica di Mauro D'Artis? L'attività politica a me piace, quindi è sempre piaciuto. Io sono entrato in Consiglio Comunale bambino e quindi proseguirà come è sempre stata. Mi aspetto una risposta di responsabilità da parte del centro-destra, dalla classe dirigente. Vediamo cosa rispondono, poi verificheremo tutti quanti insieme.